Negli ospedali di Eboli e Vallo della Lucania i medici incontrano i cittadini. Nei giorni 16, 17 e 18 febbraio le unità operative di cardiologia dei presidi ospedalieri di Eboli e Vallo apriranno le porte ai cittadini che potranno incontrare i medici per ricevere informazioni e consigli utili per la prevenzione delle patologie cardiovascolari. L'iniziativa si inquadra nell'ambito del progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare Cardiologie Aperte, promosso dall'AMCO e dalla Fondazione Ollus per il tuo cuore. Sono previsti inoltre incontri e dibattiti con la cittadinanza per illustrare l'importanza della prevenzione cardiovascolare e dei corretti stili di vita e per porre l'attenzione sull'importanza della diagnosi e della terapia precoce in tale patologie.